Welcome back Hero, in questo video ti spiego come creare un podcast vincente da zero. Mi chiamo Stefano e questo è Invest Hero, il canale che in maniera semplice e pratica ti spiega il mondo degli investimenti. Bene, 2023, già stato accennato in altri video, sarà l'anno dei podcast e non solo, ci saranno anche tantissime altre novità. Però podcast, perché proprio questo mezzo di comunicazione? In passato il traffico web si sviluppava principalmente attraverso il proprio blog che si cercava di inserire e posizionare attraverso le logiche di SEO. Vero, sono tutte cose che tuttora si fanno, però chiaramente il posizionamento e l'indicizzazione di determinate pagine risulta sempre più difficile perché le nicchie iniziano ad essere sempre più sature e quindi le parole per poter essere ben indicizzate hanno necessità di essere delle long query, quindi delle query sempre più lunghe. Se prima era semplice posizionare la query investimento, ora risulta molto più difficile e quindi la query deve diventare più lunga, non so, tipo investimento in criptomonete nel 2023. Bene, questa query potrebbe essere molto più semplice da posizionare in un'ottica SEO per il classico mondo di Google e motori di ricerca. Però poi un altro metodo per poter sviluppare traffico sul web è quello di pagare le varie piattaforme, quindi inserire l'advertising. Questa cosa già la si faceva dai tempi e si continua a fare con determinati siti che hanno traffici importanti e si vanno a pagare gli spazi pubblicitari, quindi si inseriscono il loro banner oppure all'interno dei social media vengono inseriti degli spazi pubblicitari, quindi le cosiddette sponsorizzate. Nel corso degli anni, l'avrai notato anche tu, se fai sponsorizzate su Facebook o su Google, vedrai che la spesa pubblicitaria si alza di volta in volta e le conversioni diminuiranno sempre di più. Anche qui c'è tanta competizione, tante player sono entrati a inserire budget pubblicitario su queste piattaforme e quindi risulta sempre meno funzionale. Però i podcast nel corso degli anni sono sempre aumentati in maniera graduale, ma non tanto chi li ha creati. Sì, è vero, sono aumentati i numeri di podcast, assolutamente sì, ma soprattutto le persone che ascoltano i podcast. E i podcast si basano tutti sul concetto di marketing di contenuto. Anche su YouTube capitano queste cose, per esempio se sei qua su Invest Chiro, potenzialmente vedrai anche alcuni video nostri che oltre a dare un aiuto possono essere orientati a un'attività di marketing, quindi ti porteranno a fare un'azione. Non so, iscriverti alla community, iscriviti a questa masterclass, possono capitare queste cose. Così come i podcast. I podcast sono l'esempio lampante per poter veicolare il proprio contenuto verso la propria audience in una maniera molto molto smart. E quindi comprendiamo quali sono i pregi e i difetti di fare podcast. A livello di pro, quindi le potenzialità, punto numero uno, la barriera d'accesso. È una barriera d'accesso molto bassa, infatti puoi partire con il cellulare. Il cellulare lo puoi tenere ad una distanza veramente di un palmo, quindi così, e parlare direttamente verso il microfono perché la voce, il suono non è nient'altro che un'onda meccanica, quindi se tu la direzioni in questa parte va bene, invece cambi zona inizia a essere più complesso e già puoi avere degli ottimi risultati già solo col cellulare. Vuoi fare un level up? Nessun problema, puoi prendere un microfono come questo qua, magari ti lascio un po' tutti i vari link in descrizione e questo inizia a prendere una gamma tonale totalmente diversa. Se ti avvicini cambierà un po' il suono, se ti allontani magari resta anche abbastanza stabile, se però inizi a parlare da tutt'altra parte, beh il suono potrebbe essere totalmente diverso rispetto a parlare sul microfono in maniera diretta. Poi un'altra potenzialità dei podcast è il costo anno veramente basso, in quanto per pubblicare i tuoi podcast sulle varie piattaforme è richiesto un abbonamento annuale, chiaramente per le prime ore, quindi se fai dei podcast relativamente brevi non devi pagare nulla, però ci sono delle piattaforme e anche qua ti lascio dei link in descrizioni, vabbè comunque principalmente Spiric è una delle prime, e tu pagherai un abbonamento annuale e ti darà la possibilità di essere condiviso e pubblicato sulle principali piattaforme quali possono essere Spotify o iTunes, ma poi ce ne sono tante tante altre. Questo ti dà la possibilità in un unico click di ampliare la tua gamma di possibili utenti che ti ascoltano. Comodissimo, ti costerà quanto? 30-40 euro all'anno, però avrai un range di persone veramente ampio. E poi sono semplici nella creazione, rispetto a registrare un video, chiaramente il podcast ha una parte di editing diverso, non devi occuparti più della parte editing di video, ma solo della parte audio. Tra i pro e i contro che ci sono di queste cose, però effettivamente trattare l'audio, ci sono tanti programmi anche gratuiti che ti possono dare una mano, dovrai fare una serie di tagli e equalizzare bene il proprio volume, per equalizzare significa modellare il tono della voce tagliando alcune frequenze e principalmente tagli le frequenze più basse, tagli le frequenze dove c'è normalmente dei suoni nasali o di rimbombo o i similanti delle AS, bene, tagli questi livelli qua, vai a dare una carica maggiore sugli altri livelli dove ci sono le tonalità principali della voce e si mette un compressore. Il compressore ti serve per dare più carattere alla voce, quindi aumentare la forza d'uscita in modo che il livello sia tutto stabile, non ci siano dei picchi altissimi dove magari senti una voce forte e dei picchi bassi bassi dove invece la voce non si sente neanche, il compressore ti serve a livellare tutta la traccia sonora e come hai visto queste sono le potenzialità migliori e comode, subito a portata di mano per fare un podcast, però ci sono anche dei contro e andiamo a realizzarli un po' insieme. Le prime volte quando registrerai un podcast ci metterai veramente un'eternità. Io mi ricordo era il 2016, fine 2016 quando abbiamo registrato il primo podcast io e Ale, eravamo nei canali e mi ricordo perfettamente quella giornata, ci avremmo messo un'ora e 45 per registrare un podcast di mezz'ora. È così? È normale? Perché uno sì si prepara la scaletta, normalmente nei podcast succedono queste cose ma anche per i video di YouTube, io per esempio qua sul Remarkable inserisco la scaletta di quello che devo raccontare in questo video. Andando avanti poi uno inizia ad andare più a braccio, però le prime volte era veramente complesso, quindi leggevi la scaletta, ti fermavi, ti impappinavi, è normale perché trovarsi di fronte a un microfono è sempre una situazione diversa e totalmente anomala, però le prime volte impiegherai veramente tanto tempo per registrare magari dei contenuti da un quarto d'ora a venti minuti, ci impiegherai un'ora, un'ora, un quarto, nessun problema, è tutto allenamento, poi pian piano sarà tutto in discesa. Un altro problema potrebbe essere, e oddio dopo un tot finisco gli argomenti, va bene? Non è che dovrai fare dei podcast infiniti per un'eternità, però se sei esperto di un settore e per esperto significa che lo mastichi da diverso tempo, beh fare i podcast, in realtà almeno una ventina o una cinquantina di podcast riuscirai a farli sul tuo argomento. Perché? Perché sei esperto e riesci a tirare fuori tutte le tematiche inerenti alla tua nicchia e quindi potrai iniziare a sfatare dei falsi miti, a far comprendere quali sono i pro, quali sono i contro della tua nicchia, fare dei casi studio, ci sono veramente un'infinità. Ti manca qualcosa? Nessun problema, puoi pur sempre fare un'intervista con un'altra persona, quello di un ulteriore contenuto, puoi chiedere alla tua community, dire cosa ti può interessare che parlo e lì sono tutti contenuti nuovi che escono fuori. Puoi comprendere che in realtà ce ne possono essere un'infinità, potrai andare avanti anche all'infinito a fare i podcast. Il terzo contro, che l'avevo inserito tra l'altro nei pro, perché è un pro e contro, è la parte di editing. Come ho detto, in realtà è molto più semplice editare un audio rispetto a un video, per le persone auditive chiaramente, però proprio per questo siccome il video poi è una serie di immagini in movimento che le cerchi di unire, i podcast sono delle tracce audio che devi cercare di regolare in base al suono. E molte volte, questo mi è capitato collaborando con tantissime persone, si fanno degli errori importanti in modellazione dell'audio. Perché? Soprattutto se uno lavora con un videomaker che è abituato a trattare la parte video, l'audio farà molto fatica a trattarla. Meglio un tecnico del suono, meglio una persona che lavora magari con la musica, con la radio. Bene, in quel caso lì sono persone, brave nell'editing. Se non puoi permetterti di pagare queste persone, dovrai imparare qualcosina. Ti richiederà sì quel tempo, però come ti avevo già anticipato nel punto precedente dei vari pro, quello che dovrai fare è tutta la parte di editing, quindi tagliare in modo da dare una cadenza e togliere gli errori, gli impappennamenti che capitano senza nessun problema. Però poi l'altra attività è utilizzare un equalizzatore per modellare il suono, per enfatizzare i caratteri buoni della voce e tagliare invece i caratteri quelli un cattivi e utilizzare poi un compressore per libellare il suono avendo così un livello di uscita stabile. Ebbene, questo è proprio come assaporare e come iniziare a fare i podcast. Te l'ho spiegato così, face to face. Se però sei interessato ad approfondire il mondo dei podcast, in descrizione c'è un link, un link per accedere ad una masterclass che farò online, dove mostrerò a schermo condiviso come magari inizio a fare una registrazione di traccia audio, come la porto poi sul pc, come faccio tutta l'attività di editing e soprattutto la pulizia del suono, quindi dalla presa di registrazione in modo che non ci siano altri suoni intorno, anche facendo col cellulare, fino all'arrivo del taglio di alcune frequenze, della compressione, del limiter e andiamo anche verso la pubblicazione. Quindi se sei interessato ad approfondire questa cosa, masterclass qui sotto, così che possa tu diventare un vero pro dei podcast. Se ti è stato utile questo video ti chiedo un like e un condividi con un tuo amico, sarebbe una cosa ottimale che mi farebbe tanto tanto piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao hero!